L'obiettivo dell'ASL BT è chiaro ed è quello di decongestionare il più possibile il servizio di emergenza urgenza del 118 sul territorio in un momento di grande criticità come questa, assicurando un'ulteriore postazione nelle città dove sono già adoperate delle automediche. E' così che è nata l'idea di partire con due postazioni cosiddette Victor, con a bordo cioè autista e soccorritore, sia nella città di Andrea che in quella di Trani. Questo progetto è venuto fortemente da me e dal direttore generale, avvocato Alessandro delle donne. Questi due mezzi, appunto denominati Victor, con a bordo autista e soccorritore autista, personale formato, con corsi BLSD adulto e pediatrico e PTC, saranno in supporto alle automediche, proprio perché in questa fase pandemica emergenziale, per evitare e quindi scongiurare l'indisponibilità di mezzi di soccorso per trasferimenti in emergenza di codice rosso di patologie e tempo dipendenti. In quel caso, nel caso dell'evento, sale a bordo del mezzo il medico e l'infermiere e si centralizza il paziente nel più breve tempo possibile senza perdere tempo importante. Questo servizio sarà attivo dalle ore 10 alle ore 18 tutti i giorni, in quella fascia oraria dove vi è un maggior numero di chiamate di soccorso in centrale operativa. Da questa mattina, dunque, a disposizione del territorio due nuove equip sanitarie, affidate dopo un avviso pubblico dell'ASL BT alla misericordia di Andrea e quella di Biceglie, e che potranno essere utilizzate essenzialmente a supporto delle automediche, ma non solo. Ambulanze fornite di tutti i dispositivi salvavita, in realtà, sarebbero già dovute essere quattro le postazioni attive da oggi, ma sia a Trinitapoli che a Barletta l'avviso pubblico è andato deserto. Il bando era previsto per le quattro automediche, in nostra provincia abbiamo Andrea, Trani, Barletta e Trinitapoli. Sono state presentate quindi le richieste su Andrea, sono giudicati e su Trani. Sono andate deserte, purtroppo, le postazioni automediche di Trinitapoli e di Barletta. L'intenzione dell'azienda e del direttore generale in primis è quella di rimettere subito il bando, quindi in essere, affinché possa essere colmato questo gap. Colgo l'occasione per ringraziare in questa fase particolarissima tutti gli attori protagonisti del sistema 118, i medici, gli infermieri, i volontari e le associazioni che con sempre, sottolineo sempre, professionalità, competenza, abnegazione e grande spirito di sacrificio stanno dando il loro contributo. Un impegno ancora più importante per le associazioni di volontariato già impegnate in altre postazioni di emergenza urgenza, assicurando volontari, mezzi, logistica e soprattutto organizzazione al servizio della comunità. Noi come misericordia abbiamo appunto aderito a questo bando, quindi abbiamo partecipato perché riteniamo che anche in un momento particolare come questo avere una risorsa in più e delle persone in più possono essere utili, quindi abbiamo accettato immediatamente anche questa questa adesione abbiamo partecipato e quindi adesso ci troviamo in ausilio a quelli che erano già le risorse impiegate per rendere più efficiente anche il servizio.